Domenica 22 ottobre gli elettori lecchesi potranno partecipare al referendum sull'autonomia della regione Lombardia. Per la prima volta verranno utilizzate delle macchine per voto, il voto elettronico. Daniele Nava, come funziona? Una cosa estremamente semplice e elementare. Ci sarà in ogni sezione, nelle scuole dove le persone sono abituate a votare, nella sezione esattamente identica a quelle delle elezioni tradizionali, cabine uguali, identiche, al posto che il presidente di seggio consegnare la scheda e la matita copiativa, l'elettore entra nella cabina e troverà invece un tablet, uno schermo sul tavolino e lui dovrà solo ed esclusivamente con le slide che vengono una dopo l'altra in serie schiacciare l'opzione di voto che esercita, vale a dire scheda bianca, sì o no. Potrà cambiare il suo voto eventualmente una volta ed una sola volta, così come anche con la scheda cartacea si può per una volta farsi cambiare scheda in caso di errori di voto e lì in pochi secondi avrà completato il proprio voto. Fuori da ogni seggio ci saranno delle persone incaricate che fugheranno ogni eventuale dubbio dal punto di vista della procedura di voto a chi dovesse averne bisogno. Quando si chiuderanno i seggi il presidente di seggio chiuderà le operazioni di voto con schiacciando un bottone automaticamente ci sarà una stampante che stamperà i dati che elettronicamente sono stati registrati, i dati di voto e in pochi secondi sarà visibile su carta quello che è stato il voto degli elettori, quindi quanti sì, quanti no, quante schede bianche. Staccherà una chiavetta dall'apparecchio elettronico insieme a questa stampata cartacea, si reclame una busta chiusa con una busta chiusa in comune e lì nell'ufficio elettorale ci saranno le solite operazioni di registrazione dell'avvenuta volontà degli elettori. Una cosa molto importante è la totale assenza di rischi di broglio rispetto al voto tradizionale perché non c'è scheda quindi non è manomettibile e la macchina elettronica non è collegata ad altro apparato ad altro sistema, sono indipendenti tutte le macchine elettroniche quindi non c'è possibilità che hacker entri nel sistema a variare la volontà reale del voto di ciascun elettore.